Da un lato gli operatori ex LSU, dall'altro i vigilantes Securpol. Differiscono motivi e contesti, ma ad unirli è l'ennesima protesta avvenuta questa mattina sotto la prefettura. Ancora storie di crisi economica e mancato pagamento degli stipendi. Accordi non rispettati a causa della disastrata situazione finanziaria. Famiglie che pretendono quanto spetta loro a fine mese. Pane quotidiano che in casa propria non deve mancare. Nel primo caso il futuro diventa ancora più incerto a causa della notizia che potrebbe vedere uscire di scena due delle ditte appaltatrici dei lavori nelle scuole. Nel secondo invece gli agenti di sicurezza che compiono il servizio per conto dell'ASL Lecce chiedono a gran voce più puntualità nella corresponsione di stipendi e quattordicesime.